Anche quest'anno la Guardia Costiera di Salerno è pronta a dare il vio all'operazione Mare Sicuro che sino al 18 settembre vedrà impegnati gli uomini e le donne della Capitaneria di Porto di Salerno a tutela dell'incolumità dei bagnanti, a difesa dell'ambiente marino e a garanzia della sicurezza di quanti andranno per il mare lungo tutta la costa che bagna la provincia di Salerno. Ieri la presentazione a livello regionale dell'operazione che prevede il ritorno anche della campagna per il bollino blu. Ad annunciare l'avvio dei controlli è stato questa mattina il comandante della Capitaneria di Porto di Salerno Attilio Maria D'Acondo. Anche noi ovviamente qui nella provincia di Salerno abbiamo già iniziato l'operazione Mare Sicuro che comporta chiaramente un ulteriore sforzo da parte dei nostri uomini e mezzi a tutela dei bagnanti e di chi va per mare insensolato. Devo dire che probabilmente forse come risultato dopo la pandemia c'è qui un'esplosione turistica che chiaramente è favorita anche dalla bellezza della costa salernitana e quindi abbiamo incrementato ulteriormente i controlli sia a mare che a terra. Intanto torna anche la possibilità di dotarsi del bollino blu, ricordiamo che cos'è e a cosa serve. Sì, il bollino blu è una sorta di attestazione del buon esito dei controlli che viene rilasciato ai diportisti all'esito favorevole del controllo effettuato su un'imbarcazione da riporto e quindi questo per evitare che ci siano frequenti e continui controlli su quella stessa imbarcazione in modo da poter lasciare in pace e in tranquillità i diportisti. Com'è nata, resta attivo naturalmente il 1530 che è il numero di sicurezza da contattare. Lei ha dei consigli in particolare che si sente di diffondere anche alla luce di questa prima esperienza che ha fatto nel controllo della costa salernitana? I consigli sono sempre quelli che oramai anche i miei colleghi sicuramente nel tempo hanno ripetuto, cioè quelli di navigare in maniera prudente in prossimità della costa, di evitare di fare il bagno con il mare agitato se c'è la bandiera rossa issata. La cosa sicura è che qualsiasi comportamento umano, sia a mare che a terra, deve essere improntato al buon senso. Il buon senso è l'unica cosa che deve guidare ciascuno di noi. Intanto siamo alla vigilia di San Pietro e Paolo. I festeggiamenti a Cetara riguarderanno un forte impegno anche della Capitaneria di Porto perché si è scelto di preferire le vie del mare, la costiera sarà chiusa e quindi vi aspetta una giornata intensa di lavoro? Assolutamente sì, mi dicono che qui è un evento particolarmente significativo e molto sentito in tutti i comuni della costa. Quindi ovviamente sì, saremo impegnati sia nelle attività di controllo all'imbarco qui a Salerno che allo sbarco a Cetara perché appunto il mare è qui una delle vie principali di comunicazione. Comandante, non ultima, una delle mission di Mare Sicuro è anche quella di vedervi impegnati nella tutela dell'ambiente. Assolutamente sì, infatti durante questo periodo non solo appunto i controlli a tutela dei turisti e dei bagnanti ma anche e soprattutto a tutela dell'ecosistema marino perché maggiore la pressione antropica lungo la costa maggiore devono essere i nostri controlli e i nostri sforzi per evitare che si realizzino queste uniche cose che possano danneggiare l'ambiente marino.